Non tutti i parenti sono dei serpenti, ma troppo spesso è vero, sono vipere e delinquenti. Nemmeno i conoscenti sono così cattivi, sono falsi, fuggitivi, ipocriti e primitivi. Chi fa male al proprio sangue, con i pensieri o con la lingua, è simile a un escremento schifoso e puzzolente. I parenti senza sentimenti sono dannosi come le malattie. Con la loro cattiveria, falsità e ipocrisia possono farti anche impazzire, soffrire e poi morire. La migliore soluzione per risolvere il problema non è fare o comportarsi come fanno loro, ma trattarli ogni giorno e in ogni circostanza con assoluta e silenziosa indifferenza. Grazie per la visione!